un caro saluto da mario giuliaci ma è vero che i cambiamenti climatici potrebbero provocare più terremotica nel passato ma direi che non c'è nessuna correlazione tra sorriscaldamento del pianeta e terremoti beh questa convinzione invece c'era fino a 50 anni fa perché si riteneva che l'abbandono di una vasta area come l'italia da parte di un anticiclone o da un ciclone desse luogo a micro sismi che è vero che hanno un'origine proprio nell'abbandono di quella da parte del ciclone l'anticiclone ma oggi si ritiene che i micro sismi non siano il grilletto che può innescare i terremoti